A settembre avremo la carta di identità elettronica, diciamo che la sperimentazione è finita, quindi il Ministero ha deciso di dare attuazione a questa sperimentazione. Avremo tutta una serie di postazioni che saranno aperte sia la mattina e il pomeriggio, perché ovviamente la dotazione del Ministero è inferiore rispetto al numero delle attuali postazioni, però ovvieremo ovviamente comunicando ai cittadini e tenendoli aperte la mattina e il pomeriggio. La carta di identità elettronica avrà anche la possibilità di indicare la donazione di organi e quindi faremo una campagna di informazione molto attenta sul cittadino. È un tema su cui io personalmente, ma anche molti cittadini sono impegnati, il tema della donazione e quindi penso che sia un'opportunità di inserire questo dato già nel documento elettronico.